Siamo con Don Sergio Salvucci, saggiato di Fidei Donum, cioè in prestito a una di oggi dell'Argentina. Ci dirà dove sta e da quanto tempo, Sergio? Allora, sto nella città di Puerto Madryn, al sud, nella Patagonia Argentina. È una città di 120.000 abitanti e sono 4 anni che sto laggiù, dal 2015 che sto laggiù. Per un totale dovrei stare giù un 12 anni, 10-12 anni. La gente con la quale tu vivi, che attività fa? Come vivono? La città si sostiene con il lavoro di aluar, alluminio argentino, in pratica produzione dell'alluminio, la pesca, perciò vengono le navi con i pesci e vengono surgelati e il turismo, molto turismo perché in quella zona nascono i valenotteri e i ci sono i pinguini, un po' più a sud, ma vengono lì le crociere per vedere questi due fattori importanti della zona. Voi siete due sacerdoti, sei tu? No, siamo di più. La vostra parrocchia? A parrocchia siamo due sacerdoti che veniamo qui dall'Italia con Don Alberico Capitani, ma ce n'è un altro, pure la nostra diocesi macerata, Don Andres, che è brasiliano però incardinato qui a Macerata. Per quanti abitanti la vostra parrocchia, due sacerdoti? Per la nostra parrocchia sono 28.000 abitanti, la città 120, abbiamo detto, sono quattro parrocchie, altri 28 ce li ha Don Andres. C'è bisogno ancora, c'è un'urgenza di presenza della Chiesa Cattolica in America Latina, particolarmente nel vostro territorio? Sì, c'è bisogno di molti più sacerdoti di quelli che ci sono fino adesso e spero che molti altri rispondano a questa necessità che c'è in quella zona. Quindi possiamo considerare la vostra, una parrocchia della diocesi di Macerata? Sì, una parrocchia della diocesi di Macerata dove il Vesco ha fatto la prima visita pastorale, è stato molto contento, è stato con noi dal 13 al 20 di marzo. C'è anche una rivista dove ci sono tutte le sue osservazioni giorno per giorno. Grazie Don Sergio e Uri. Grazie a voi e arrivederci a presto perché ogni due anni ritorno. Vi aspettiamo.